e allora che dici morris cipolla ciao bella il problema è che è partita la canna dentro l'acqua alla salute ciao ciao Scusa! Salute! Ho i brazoni di gioco! E' l'entrata! Com'è? Ehm... La vinca! E' un bel di ansia che non ci vuole! Ahahahah! Stai a farfalle! Ehm... 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 Ehm...